ciao e benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo proprio di score hero è un gioco che nel telefono già lo scaricato proprio da pochissimo e quindi ancora non neanche cominciato mentre nel tablet ce l'ho già da qualche mese e sono all'incirca livello 200 280 ma anche di più ok cominciamo intanto devo scegliere il mio eroe ovvero il l'avatar che rappresenti me quindi scelgo proprio questo ovviamente italia ricerca di talenti in corso i migliori giovani calciatori dimostrano il loro talento prove prove nazionali cominciamo queste queste prove già mi dice che devo imparabile è una bomba perfetto segna due gol ok ho preso solo due stelle però io ci voglio riprovare devo prendere tre qua me lo dice all'angolo basso e qui all'angolo alto quindi neanche ora lo devo rifare ok vabbè dopo ci riproviamo alla fine ok tiro palo gol imparabile perfetto questo non c'è neanche il nome il portiere si tuffa però non riesce a prendere produttivi produttività produttività al 100% il principiante vuole cambiare posizione magari potremmo notare qualcosa di più forte a questo punto scelgo l'empo ok posso provare tiro sublime rete uno da tenere d'occhio fino a zotto due stelle due stelle due stelle una prova da superare sempre con l'emboli un calcio di punizione un tiro spettacolare tre stelle che sono riuscito diciamo a eseguire tutti e tre diciamo gli obiettivi previstati complimenti hai firmato con il club empoli e ricevuto la maia numero 49 inserisci il tuo nome ok metto il mio nome angi perfetto e lì si può schippare questa parte 150 bigliettoni pronto a scendere in campo un'occasione per distinguersi nella partita dalle riserve ah quindi viene considerato come una riserve perfetto vorrei provare il tiro da fuori che gol incredibile da urlo ah ok ok sto perdendo una zero devo rifare non so perché perché ho messo che l'ho dovuto fare da capo palo no ok ok ma perché no dai no no veramente lo devo rifare mi dispiace oh finalmente spettacolare angi mette la luce in luce le riserve ok cauto ottimismo dell'allenatore empoli verona può arrivare angi a recuperare il pallone sulla fascia può provare un tiro la mette in mezzo arriva col colpo di testa rete 1 a 0 per l'empoli sempre 2 stelle ora passiamo a livello 7 ma mi sa si dai ce la possiamo fare ok ok andiamo col colpo di testa che va al centro un tiro 3 stelle 3 stelle segna un gol effettua un assist un assist con il tuo eroe segna un colpo di testa bello assist però noi infortuni raggiungono un livello critico la prima squadra potrebbe appoggiarsi alle riserve empoli sassuolo campionato partita delle ris e quindi considera pure le partite delle riserve è una punizione rive il tiro incredibile tiro ad effetto per un filtrante che viene recuperato un tiro a giro che non era così tanto a giro però rete 2 e 2 io direi di provare ad arrivare anche al livello 11 empoli palermo 1 a 1 2 a 1 ok ok ora nel tiro dalla distanza allora vi volevo solamente dire che nel tablet incredibile sono riuscito a fare una punizione di rabone angi di nuovo in panchina ma perché mi metto in panchina mi devi mettere in panchina ci vediamo se mi metto in panchina è proprio bellissimo il tiro ok ho sprecato una vita inutilmente ok avrei il tiro da questa distanza proprio un tiro incredibile 1 a 0 empoli ok ora passiamo al livello 11 ah no devo andare qua ok che cosa dovrei fare i miei capelli i miei capelli li posso li devo lasciare così perché non ho sbloccato altro idem lo stesso le scarpe vediamo niente potrei però comprarmi il numero di maia la maia me la lascio così il numero di maia che è quello che mi interessa il 10 costa 180 21 120 lo potrei prendere però il 10 come mi sta o il 9 no il 9 costa 200 io mi sa che prendo il 10 mi sa che prendo il numero 10 in caso ditemelo voi sui commenti cosa preferite se magari preferite il 9 o il 10 non lo so titolare nella prima squadra angi si sta ambientando nella squadra empoli bologna campionato italiano partita ora finalmente non dice più che si tratta delle riserve perfetto provano una punizione incredible rete due stelle non abbiamo effettuato l'assist con l'eroe ora la numero 10 la posso prendere la numero 9 la maia numero 9 non la posso prendere io non prendo niente prenderò tutto nel prossimo video se per voi cambia qualcosa dovete dirmelo nei commenti ok avevamo detto che dovevamo arrivare avevo detto che dovevo arrivare fino al livello 11 quindi all'inizio del video avevo detto che avrei dovuto portare il livello 1 a 3 stelle quindi ora vediamo angolo basso e questo abbiamo capito questo angolo alto ci siamo riusciti finalmente talent scout cerca star ambizioni da principiante perfetto abbiamo pure 24 stelle in generale nazionalità italiano nome giocatore angi numero maia 49 che non so se rimarrà sempre 49 club attuale empoli medaglie evento ah perché prima esistono pure gli eventi ora non lo so più se li fanno va bene il video di oggi si conclude qui iscrivetevi condividete lasciate un like iscrivetevi a questo canale ci fate iscrivervi a tutte le persone del mondo e ci vediamo al prossimo video ciao